Anticipazioni, la rosa della vendetta. L'attenzione si concentra su Deva, che rifiuta l'offerta di denaro presentata da Gulcemal. Decisa a chiarire la sua posizione, Deva richiede prove tangibili del suo presunto tradimento come spia al servizio di Zafer. Un cambio di rotta che non passa inosservato e che getta un'ombra di sospetto su Gulcemal. Per ottenere le informazioni necessarie, Gulcemal si rivolge a Yelda, chiedendole di procurargli il filmato che possa attestare la presenza di Deva a casa di Zafer. La situazione si complica ulteriormente quando Imrullah, il domestico, sorprende Yelda intenta a cercare sul computer il filmato richiesto. Colto in fallo, Imrullah cerca di scoprire le sue reali intenzioni, mentre Yelda è abile nel mascherare le sue vere intenzioni, sostenendo di aver usato il computer solo per comunicare con suo figlio. La tensione crescente tra i personaggi si fa palpabile, portando alla luce le fragilità e le motivazioni che si nascondono dietro le azioni di ciascuno. Parallelamente, Gulendam esplode di rabbia per la decisione di Gulcemal di ospitare Armagan nella loro casa. Questo gesto genera un conflitto interno non solo tra i personaggi, ma anche nella vita emotiva di Gulendam stessa. Durante una conversazione intima con Mert, si confida sulla sua vera identità come figlia di Zafer. La rivelazione sorprende e destabilizza Mert, che subito corre a dirlo ad Eva. Tuttavia, viene interrotto dalla consapevolezza che Eva ha già compreso che Mert potrebbe essere la vera spia, alimentando ulteriormente la tensione narrativa. Questa catena di eventi culmina in una scena chiave della puntata, dove Eva, dopo essere andata incontro a forti emozioni, rischia di svelare l'identità della spia a Gulcemal. La sua lotta interiore si intensifica, portandola a un punto di rottura, e tutto culmina in un blackout che la vede svenire. Con l'avvicinarsi della festa della mamma, il clima di festa si trasforma in una fonte di preoccupazione e tristezza. Armagan si trova a dover affrontare la dura verità sulla propria madre, mentre Gulcemal, nonostante i suoi conflitti con Zafer, prova nostalgia per l'assenza della figura materna nella sua vita. Deva, a sua volta, vive un forte conflitto interiore. Ogni anno, in occasione della festa della mamma, lancia messaggi al lago in ricordo della madre defunta. Ma quest'anno è costretta a rinunciare per via dell'arco che Gulcemal ha distrutto. Nel bel mezzo di questo dramma, Gara mostra la sua empatia e comprensione nei confronti di Deva, scegliendo di regalarle un nuovo arco. Questo gesto gentile rappresenta un importante momento di sostegno per Deva, spronandola a partecipare alla celebrazione nonostante il tumulto emotivo che la pervade. In un altro sviluppo significativo, Gulcemal decide di infiltrarsi nella casa di Zafer con l'intento di rubare i filmati di sorveglianza, determinato a trovare la prova che Deva sia una spia. Tuttavia, il suo piano fallisce miseramente quando scopre che il video che cercava è stato eliminato. Questo fallimento non solo segna una sconfitta per Gulcemal, ma lo costringe a tornare a casa a mani vuote. Riflettendo su quanto accaduto, si immerge in un momento di nostalgia, assaporando i sarma preparati dalla madre. Un gesto che non solo evidenzia la sua vulnerabilità, ma anche la complessità del suo personaggio. Se vorresti il continuo della storia scrivi sì nei commenti e lascia un bel mi piace.